La richiesta per un tavolo di verifica è partita dalla segreteria regionale della CISAL Metalmeccanici. Alla prefettura si chiede di intervenire nella vicenda di due lavoratori rimassi fuori dal ciclo produttivo, nonostante le clausole di salvaguardia occupazionale. Si tratta di due perai dell'indotto non assorbiti nel passaggio d'appalto che ha coinvolto le aziende Revisud e SAR. Il 31 gennaio del 2022 era la Revisud, la nostra ditta in cui appaltatrice dei lavori di meccanica, elettromeccanica ha perso il lavoro e da quel giorno noi non siamo entrati più in raffineria. Dopo varie peripezie, passaggio di ditta a ditta, già sono passati otto mesi e noi siamo fermi ad aspettare qualcuno che ci assorbe, che è stata la ditta appaltatrice alla SAR, che ha preso il lavoro, che ormai se l'ha giudicato, ha già iniziato i lavori, non molla nemmeno un attimo a dire di assumerci. Secondo il segretario dei metalmeccanici CISAL, Paolo Magri, anche la committente, in questo caso Aini Rewind, dovrebbe intervenire. Sarebbero stati diversi i solleciti ad adempire alla ditta subentrante. La SAR, però, non avrebbe dato finora alcuna risposta. Il problema riguarderebbe solo due lavoratori, peraltro necessari ad adempire all'espletamento dell'appalto. Eppure, finora non è stata riscontrata alcuna disponibilità alla mediazione. Il sindacato per questo si è rivolto anche al prefetto, affinché vengano garantiti dignità e diritti ai lavoratori e alle loro famiglie. In primo luogo non è stata rispettata alcuna procedura di cambio d'appalto. Siamo in assenza di comunicazioni preventive, quindi nessuno ha saputo nulla di questo cambio d'appalto, che è stato fatto in sordina e ovviamente lasciando le persone a casa. Entrambe le aziende operano nel settore elettromeccanico e sono tra quelle che lavorano nell'indotto di Enia, anche per quanto riguarda le attività di raffineria. Di recente i sindacati hanno sollecitato il celere avvio degli investimenti in programma, anche per evitare che possano determinarsi emergenze occupazionali, anzitutto nell'indotto. Tra i cantieri più attesi c'è quello dell'investimento Argo Cassiopea, con il progetto per il gas.